Sono Giuseppe Vaciago, insegno informatica giuridica e faccio l'avvocato. Sono stato invitato più volte dall'Università di Brescia ed è stata per me sempre una grandissima opportunità in quanto è un'università meravigliosa ed è un luogo di incontro culturale e scientifico. Colgo l'occasione per fare gli auguri di 40 anni a questa meravigliosa università.